Nel 1974, Georg Mosse, storico tedesco di famiglia ebraica nazionalizzato statunitense, pubblica la Nazionalizzazione delle Masse, simbolismo politico e movimenti di massa in Germania, 1812-1933. Ora, senza ombra di dubbio abbiamo detto che l'avvento delle masse si ha tra la fine dell'Ottocento e i primi anni del Novecento, l'industrializzazione, la seconda evoluzione industriale, ma Mosse ravvisa a partire dalla fine del Settecento, quindi in piena età romantica, il prendere corpo di una vera e propria nazionalizzazione delle masse, vale a dire la fusione dei valori e degli ideali nazionali in un sistema comune alla maggioranza delle classi medie, e in grado di poter coinvolgere, influenzando anche le masse popolari. Pertanto, in quanto movimento e democrazia di massa, il fascismo, e per fascismo si intende anche il nazionalsocialismo in questo contesto, ha una lunga storia alle spalle. Se si vuole comprendere pertanto il fascismo e il consenso da esso raccolto, bisogna risalire a questi precedenti storici. E furono i miti e i culti dei movimenti di massa a dare al fascismo una base dalla quale operare, mettendolo in grado di rappresentare un'alternativa alla democrazia parlamentare. Inoltre, il nazionalsocialismo fece suoi alcuni valori, come la nuova politica e gran parte del patrimonio nazionale. Hitler, pertanto, si trovò ad agire all'interno di una realtà concretizzata da un culto nazionale e da uno stile politico già maturi, già autonomi. Ora, abbiamo detto che una conseguenza dell'industrializzazione europea fu la creazione dell'uomo massa. E miti e simboli hanno fornito il più efficace strumento di disumanizzazione. Nel senso che quando la massa, lo abbiamo visto già con le Bon, quindi queste elezioni vanno pensate come un continuum, entrano sulla scena politica, ce l'ha già detto del resto anche a Narendt, i totalitarismi hanno capito che questa massa, apparentemente in forme, ben lungi dal non contare nulla, poteva avere un grande ruolo politico, poteva con il concetto di sovranità popolare, che è un'idea fondamentalmente romantica, si rifà al pensiero di Rousseau. Dico romantica e non illuminista, perché? Perché evidentemente fu il romanticismo a colorare nazionalisticamente questi valori. Senso ombra di dubbio il concetto di sovranità popolare si rifà al modello di Rousseau di volontà generale, che si realizza solo quando tutto il popolo agisce come se fosse riunito in un'assemblea e quando si manifesta il carattere dell'uomo in quanto cittadino. Ma poi, come abbiamo visto nelle elezioni precedenti, il nazionalismo del secondo ottocento trasforma quell'idea democratica in un'idea etnica, cioè si passa, e vi rimando alle elezioni precedenti, dall'idea secondo la quale i diritti, siamo i diritti di tutti i cittadini risidenti in un singolo Stato, al caratterizzare etnicamente la nazione. Pertanto la nazione diventa un gruppo etnico caratterizzato da valori comuni, religiosi, linguistici, culturali. Questo passaggio da un primo a un secondo nazionalismo tipico della cultura romantica, quindi nella seconda mattina del Settecento e poi nell'Ottocento diventa, secondo Mosse, il collante della futura nazionalizzazione delle masse e diventa il pretesto che ha fatto sì che la politica diventa dramma. Cosa vuol dire? Vuol dire che il dover coinvolgere le masse costrinse la politica a farsi dramma, cioè a utilizzare i miti e la simbologia, Mosse la chiama la liturgia, con la quale convogliare, sulla base anche di quello che ci ha spiegato Gustave Le Bon, le masse. La politica diventa dramma, nel cui ambito si compiono veri e propri riti liturgici. L'Italia fascista ebbe le sue cerimonie, i suoi simboli, ma fu soprattutto Hitler che si ispirò a un modello neoclassico di bellezza, il ruralismo hitleriano, e in generale ha tutta una simbologia, Mosse la chiama una liturgia, con cui poter coinvolgliare attraverso la propaganda le masse stesse. Pertanto il nazionalismo, che non c'è ombra di dubbio, ebbe un grande aiuto, per così dire, nella prima guerra mondiale, che fu una cesura, ma il nazionalismo riprese temi romantici e, come scrive Mosse, nemmeno il Mein Kampf fu la Bibbia del nazionalsocialismo, non ve ne fu bisogno, perché le idee del Mein Kampf erano state trasferite in forme liturgiche e in molti testi, che poi i nazionalsocialisti sfruttarono, si decantava il mito del Blut und Boden, del sangue e suolo, tipico della cultura germanica. Nasce l'interesse per la bellezza ideale, il tipo ideale. Chiaro che Winkelmann negò valutazioni razziali, lui parlò sì della bruttezza dei nasi neri, quindi è chiaro che non aveva la sensibilità che abbiamo noi, ma disse però che questo era un giudizio operato dai bianchi. Ecco, questa cautela che Winkelmann aveva non trovò più ascolto perché dopo solo la razza bianca venne ritenuta meritoria e meritevole. Il popolo, poi il popolo tedesco, la razza ariana, fu visto incarnatore di questa bellezza e presto la razza ariana fu portavoce di questo modello ideale. In questo senso, Mosse fa un esempio emblematico di quanto la liturgia nazista avesse ripreso dei temi che erano entrati nella comunità. Nel senso che il tema di un rito liturgico cristiano è il seguente. Ci sono quattro momenti. Il primo è la confessione da parte della comunità dei propri peccati, poi la recita del credo, poi la spiegazione delle scritture, poi la preghiera comune e la benedizione. Cosa fanno i nazionalsocialisti? Nei grandi discorsi di Hitler ricostruiscono esattamente questi quattro momenti, dandogli però semplicemente un contenuto diverso. Per cui, al posto della confessione da parte della comunità dei propri peccati, c'è l'idea che i tedeschi abbiano perso la guerra perché hanno delle colpe da espiare, evidentemente. La recita del credo diventa inevitabilmente l'accettazione delle parole del Führer, che quindi diventano il nuovo credo. La spiegazione delle scritture diventa la presentazione della grande Germania, del Terzo Reich, dopo la vittoria e dopo l'eliminazione del nemico interno, gli ebrei. E infine la preghiera comune e la benedizione diventa l'esaltazione del Terzo Reich, dell'unità tra folk, popolo, impero, Reich e Führer. La nazione diventa la nuova fede, la Heimat, la patria. Il credo viene sostituito da poesie o discorsi patriotici. E i nazionalsocialisti capiscono l'importanza del simbolo, di creare feste di massi, di creare circoli. Il più famoso circolo nazista, ad esempio, era un circolo di anni, i ginnasti. Perché la ginnastica, lo sport, ha questa importanza, tanto nel fascismo quanto nel nazionalsocialismo? Perché lo sport disciplina. Lo sport riunisce un gruppo sportivo, passa dall'essere una massa informe a una massa compatta, disciplinata, per l'appunto. Come Jan stesso affermò, quasi tutte le feste folk, cioè le feste popolari, sono scomparse perché è stata trascurata la ginnastica o perché essa è degenerata. I ginnasti di Jan indossavano tutti la divisa blu, si salutavano con il tu germanico, segno di fratellanza popolare rispetto alla forma di cortesia, il si tedesco, e si salutavano con l'heil. E' chiaro che questi, l'Heil Hitler sarebbe arrivato ben presto, insomma. Il movimento dei ginnasti nasce, pensate, alla vigilia del 1848, quindi è un movimento rivoluzionario, però presto si schierò contro la rivoluzione e passò in primo piano l'idea che il folk che si realizza in contrapposizione al diverso e qui ci sono le prime reazioni anti-ebraiche, poi assume un carattere nazionalistico, quindi se volessimo seguire l'evoluzione del circolo dei ginnasti di Jan è proprio il passaggio da una cultura nazionalistica democratica a una cultura nazionalistica etnica, appunto il passaggio del nazionalismo tra il primo e il secondo Ottocento. E così in Germania iniziarono a produrse tutta una serie di testi in cui veniva esaltato il carattere germanico, prendiamone solo uno, Lanz von Liebenfes pubblicò un giornale Ostara, Ostara è una dea germanica, che aveva come sottotitolo biblioteca di coloro che sono biondi e difendono i diritti del maschio. La tesi che un certo tipo di persone debbano dominare sulle altre in contrapposizione a questo gruppo privilegiato poi ci sarebbero gli ebrei. L'odio contro gli ebrei si manifestò inizialmente solo nei pamflet ma è chiaro che fu un terreno fertile da cui poi i nazionalsocialisti svilupparono un concetto di vera e propria nazionalizzazione delle masse, di acculturamento. La liturgia nazista si basava cioè sull'organizzazione totale della vita. Ogni tedesco era obbligato ad appartenere ad uno degli innumerevoli gruppi controllati dal partito i quali costituivano l'ossatura necessaria per dirigere ogni attività non escluse la vita sociale. Il rito di venerazione insomma per la nazione divenne parte del mondo pubblico e l'elemento occultistico e razzista rimase ciscoscritto al mondo privato di Hitler che egli tenne celato al pubblico al quale cercò almeno di dare un'apparenza rispettabile pubblicamente. E' vero ci sarebbe anche questo tema da affrontare l'occultismo ma fondamentalmente essa affiorava almeno nei discorsi pubblici di Hitler solo quando gli serviva per descrivere la forza demoniaca dell'ebreo senza turbare in alcun modo la serenità dei simboli buoni della fede. Allora è evidente che in questo testo Mosse è un'opera di sociologia fondamentalmente riconosce che certamente ci sono delle ragioni storiche la crisi della Repubblica di Weimar però la capacità di creare una società così così organizzata e così fedele al proprio leader doveva passare attraverso appunto il simbolo e come scrive Mosse l'abilità dei nazisti fu quella di costringere i loro avversari cioè i socialisti i comunisti ad accettare il dibattito all'interno di quella cornice simbolica che i nazisti avevano intenzione di far fruttare e cosa vuol dire? vuol dire che si trattava di creare una cultura simbolica attraverso il quale le immagini vengono filtrate del resto e concludiamo quando la chiesa doveva la chiesa romana doveva far passare i messaggi i messaggi teoricamente difficili il concetto della trinità a masse contadine che non sapevano né leggere né scrivere lo faceva in che modo? lo faceva attraverso una simbologia una liturgia in cui ad esempio pensiamo nell'eocarestia il pane diventa il corpo di Cristo e il vino diventa il sangue di Cristo è chiaro che spiegare razionalmente tutto questo a una massa per lo più analfabeta è complesso lo stesso discorso però valeva per Hitler come abbiamo visto con Gustavo Le Boni in Psicologia delle Folle si trattava di creare una simbologia una simbologia pagana peraltro contrapposta a quella cristiana e protestante le due fedi più importanti in Germania in cui la tradizione del folk la quercia anche il simbolo della svastica il mito del Valhalla il monumento a Tisbono edificato tra il 1830 e il 1842 cioè l'idea del monumentale basti pensare allo stile fascista questo stile monumentale perché in qualche modo intimorisce le masse che diventano quindi un gruppo facilmente gestibile ecco si trattò di creare una vera e propria liturgia simbolica che fosse in grado di nazionalizzare le masse cioè coinvogliare le masse e trasmettere un messaggio fascista o nazionalsocialista certo che poi ci furono anche la propaganda la scuola i libri di testo la radio lo sport le olimpiadi i film eccetera 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 ma non è da sottovalutare questo aspetto simbolico che è stato sviluppato dai fascismi dal regime fascista e dal regime nazionalsocialista grazie a tutti grazie a tutti